quello che sia. Perché Oktri ha detto no? Oktri ha detto no perché lo ha fatto sapere, lo ha fatto trapelare anche al Financial Times, in realtà si aspettava in questi tre anni che l'Inter fosse venduta, questi erano gli accordi, cioè Oktri in un patto tra gentiluomini con Zai, ma non soltanto un patto tra gentiluomini, probabilmente c'era anche un warrant che Oktri aveva negoziato, un warrant per spiegarlo a tutti e un diritto a ricevere qualcosa, in questo caso Oktri pare che avesse acquisito un diritto a ricevere una remunerazione sull'eventuale rivendita del club e che questa rivendita sarebbe dovuta accadere nei tre anni previsti. Quindi Oktri si è sentito un po' buggerato perché dice mi hai detto che vendevi il club, non l'hai fatto in questi tre anni, ora ti presenti da me e mi dici prorogami il prestito, a fronte di che cosa? Perché dovrei farlo? Perché dovrei assumermi un ulteriore rischio? Anche perché nel frattempo neanche gli interessi sul debito mi hai pagato perché gli interessi si sono accumulati al capitale. Quindi Oktri mi sta sostanzialmente dicendo estendi l'esposizione che hai nei miei confronti e che è garantita dall'azione dell'Inter a fronte di una garanzia che rimane sempre quella, cioè che è sempre l'Inter. Quindi Oktri sta dicendo se oggi io posso essere garantito con il mio prestito di 380 milioni, domani io dovrò farmi garantire da questo pegno delle azioni un ammontare maggiore di 400, 500, 600 milioni, dipende dalla durata, perché si parlava di interessi molto importanti. Oktri ha detto no. Zang è andato, pare sia andato, da altri soggetti, tra cui il fondo PIMCO, un fondo americano che in realtà è un fondo molto diverso, è un asset manager, non è un fondo speculativo, non è un fondo di private equity, non è un fondo che ha una vocazione azionaria di gestire società, ma comunque ha trattato con PIMCO la possibilità di surrogare Oktri, cioè dicendo prestami 400, si è parlato, 430 milioni, io ne utilizzo 380 per pagare PIMCO, per pagare Oktri e poi mi rimangono altri soldi che posso, è a fronte del pegno dell'Inter. Cioè il, Marco se mi consenti una battuta, a me stesso pacchetto di relazioni dell'Inter sembrava come il cappotto di Totò che doveva andare a impegnare al monte dei pegni e gli diceva all'amico, fatti dare gli spaghetti di Gragnano, fatti dare la mozzarella di Aversa, fatti dare questo, e quello guardava, Totò guardava il cappotto, e sempre il cappotto era, no? E quello continuava ad aggiungere cose che secondo lui questo cappotto gli avrebbe consentito di ottenere. Ecco, a me sembra un po' la stessa cosa, tanto che poi Totò gli dice, ti ricordi, ma questo che è il cappotto di Napoleone, no? Perché deve essere una cosa, cioè, importantissima.